di conversione in legge del decreto legge 17 febbraio 2017 numero 13 sull'approvazione del quale il governo ha posto la questione di fiducia senatori presenti 260, senatori votanti 253, maggioranza 127, senatori favorevoli 145, senatori contrari 107, senatori astenuti 1, il Senato approva restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge numero 13